Buongiorno dal Tg della mobilità. Monopattini a noleggio a Ostia si parte oggi con un primo test. I monopattini potranno essere noleggiati su lungomare Toscanelli e Duiglio e vicino alla stazione Stella Polare della Roma Lido in aree autorizzate lungo il percorso per la sicurezza stradale tra le regole e il divieto di utilizzo del mezzo in due persone. Ultima corsa all'1.30 questa notte per le tre linee delle metropolitane. Come sempre nel fine settimana Metro A, Metro B e Metro C prolungano l'orario di servizio. E ricordiamo che questa sera saranno attive le zone a traffico limitato notturne, quelle di Trasevere e San Lorenzo dalle 21.30 alle 3, le ZTL di Centro e Testaccio dalle 23 alle 3. È tutto per questa edizione del Tg della mobilità.